Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabbiambrosi.it, corso introduttivo di After Effects. Oggi parleremo delle composizioni, che cosa sono le composizioni, come utilizzarle e come organizzarle. Vi ricordo prima però www.fabbiambrosi.it, sito dove troverete l'indice con gli argomenti di questo corso introduttivo ad After Effects. Troverete anche un corso introduttivo ad Adobe Premiere se volete imparare ad utilizzare Premiere e troverete anche tante altre cose. Fateci una capatina e scopritelo da voi. Se vi fa piacere iscrivetevi anche a questo canale YouTube, cliccate su iscriviti, iscrivimi, non ricordo adesso come è, sì iscrivimi credo che sia. E se vi fa piacere cercatemi su Facebook e la pagina da cliccare è Fabio Ambrosi. Parliamo di composizioni, cosa sono le composizioni e a cosa servono. Quando abbiamo iniziato questo corso, diverse lezioni fa, vi ho detto che quando viene creato un progetto After Effects in realtà non dobbiamo dire assolutamente nulla ad After Effects. Quando creiamo un progetto After Effects in realtà ci troviamo di fronte a una schermata tipo questa. Non abbiamo bisogno di inserire un nome, non dobbiamo specificare una risoluzione, non dobbiamo specificare il numero di fotogrammi per secondo che vogliamo abbiano le nostre composizioni finali. Perché? Perché in After Effects tutto avviene a livello di composizione. Ecco, imparare bene a lavorare con le composizioni è il primo passo da fare quando si lavora in After Effects. Se in Premiere abbiamo le sequenze e le timeline, in After Effects abbiamo le composizioni. Quando abbiamo visto in Premiere la timeline, come creare una timeline, abbiamo visto che dobbiamo specificare la risoluzione, altezza, larghezza, numero di fotogrammi per secondo, eccetera, eccetera. Ecco, la stessa cosa dobbiamo fare in After Effects, con la differenza che in After Effects probabilmente dovremo creare tante composizioni. Vedete la composizione, se preferite, come la timeline in cui andremo a lavorare. Ma non è proprio una timeline, è qualcosina di più. Una composizione può essere anche un luogo in cui raccogliamo tanti elementi grafici che poi vogliamo utilizzare in altre composizioni. Non vi preoccupate se non capite bene tutto, sicuramente il tempo e l'esperienza vi permetteranno di capire bene di cosa stiamo parlando. Facciamo un passo indietro, come creare una composizione in After Effects. Bene, dritto davanti a voi c'è un bottone grande chiamato Nuova composizione, oppure c'è un tasto di scelta rapida che è Control N, oppure c'è il tastino all'interno del pannello progetto qui in basso, eccolo qui, lo vedete, cliccate su Nuova composizione, avete tre modi differenti tra cui scegliere, scegliete il vostro preferito, io scelgo di cliccare su questo bottone Nuova composizione e mi viene presentata una finestra in cui io qui sì che devo dare delle informazioni ad After Effects, perché sto creando quella che in Premiere era la sequenza, ok? Anche se, lo ripeto, le due cose sono leggermente differenti. Scegliamo un nome alla nostra composizione, chiamiamola Test per esempio, scegliamo la risoluzione che deve avere la nostra composizione. Ho dei preset ovviamente tra cui scegliere, ma posso anche fare una composizione totalmente custom, per esempio di 512 pixel per 512 pixel, nessuno me lo vieta. Mentre in Premiere di norma ci atteniamo a quelli che sono gli standard, quindi l'HD, il 4K, l'S10, eccetera, eccetera, sappiate che quando lavorate in After Effects spesso vi troverete di fronte a composizioni con dimensioni strane, perché a seconda di quello che voi dovete fare, non è detto che dobbiate per forza lavorare con una risoluzione 1920x1080, a volte può capitare di creare una composizione anche di 200 pixel per cento, quindi non vi spaventate se in futuro vedrete delle dimensioni, delle risoluzioni della composizione un po' particolari. Noi per questo esempio teniamoci quadrati, 512x512. I pixel, potete scegliere la proporzione del pixel, ma nel 90% dei casi va benissimo la voce pixel quadrati, fotogrammi per secondo 25, anche qui possiamo mettere il valore che vogliamo, non abbiamo limiti, anche 4000 se dobbiamo lavorare per esempio ad uno slow motion, teniamoci a 25, ignorate tutto il resto per adesso tranne questa voce durata. A differenza delle sequenze, delle timeline di Premiere, in After Effects le composizioni hanno sempre una durata fissa, ok? Non sono aperte in termini di durata, non è che come in Premiere che più materiale aggiungete più la timeline diventa lunga, no! In After Effects le composizioni hanno una durata prestabilita, in After Effects il tempo conta, ok? Lo vedremo meglio più avanti. Per iniziare va bene una composizione da 10 secondi, ignoriamo il resto per adesso e clicchiamo su ok. Viene creata una composizione, vedete che ho il frame di 512 pixel per 512 pixel, viene attivata la timeline che è vuota ovviamente però c'è la nostra composizione test, nel mio pannello progetto ho la composizione test, riconoscete questo simbolino che in After indica una composizione e qui adesso posso iniziare a mettere elementi grafici, video, titoli e quant'altro e iniziare a creare il mio progetto, il mio lavoro in After Effects. Per il momento mi fermo qui, ovviamente ci sarebbe molto altro da dire sulle composizioni, ma non vi preoccupate, lo vedremo a mano a mano che andremo avanti con questo corso introduttivo ad After Effects, come ho già detto in passato, è un corso di introduzione, non è un corso che ci porterà a fare gli effetti speciali per il cinema, perché After Effects è un software molto complesso, lo vedrete, lo vedrete, e il 50% del lavoro purtroppo non si impara, ma si esplora, dico io, perché una volta acquisiti gli strumenti per lavorare in After Effects, poi il resto dovete farlo voi con la vostra creatività. Non tutti sapranno utilizzare questo software al meglio, non per limiti personali, ma per predisposizione probabilmente, ma sicuramente tutti, alla fine di questo corso, saprete mettere mano ad After Effects e saprete sicuramente capire che cosa avete davanti ai vostri occhi. Nel prossimo video tutorial parleremo dei livelli, che sono un'altra componente importante di un progetto After Effects. Se in Premiere avevamo le tracce, in After Effects abbiamo i livelli, ma ne parleremo nel prossimo tutorial. Prima però vi ricordo www.fabioambrosi.it, sito con l'indice degli argomenti che tratteremo in questo corso, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi video tutorial e se vi fa piacere cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare è Fabio Ambrosi. Lì tante novità a mano a mano che usciranno. Nei prossimi mesi faremo anche qualche tutorial live e verrò io ad informarvi sulla pagina Facebook quanto prima. Grazie ancora, buon proseguimento, alla prossima, ciao!